Il Ministero dell'Istruzione e le CNR lavoreranno ancora di più insieme per dare nuovo impulso alle esperienze di alternanza scuola-lavoro. L'accordo è stato firmato poco fa nella sede del CNR da Presidente Massimo Inguscio e dalla Ministra Valeria Fedeli. Nel futuro delle nuove generazioni la ricerca farà acquisire nuove competenze e strumenti ai giovani. Un'occasione formativa non convenzionale è stato sottolineato che potrà poi diventare una concreta opportunità professionale. Nel triennio 2014-2017 i progetti scuola-lavoro con il coinvolgimento del CNR hanno interessato su tutto il territorio nazionale quasi 10.000 studenti, le sedi di oltre 100 sedi territoriali di istituti di ricerca CNR e oltre 550 istituzioni scolastiche.